Robinson, bella la giocata per Onwaku, eccola qua! Cortinia è già dall'altra parte, ma di là non si passa con Onwaku! Guardate dove era la mano! Chiama a pallo Onwaku, non ricevelo, guardate, ecco lo riceve adesso, si alza per Onwaku! La finta di Benjus, bravo poi Benjus a servire con molta intelligenza Onwaku! Poi Robinson serve ancora per Onwaku che va a poggiare ancora! Lundberg che vanno contro uno, può poggiare, si spegne ancora la luce! Chiede palla a Onwaku, c'è Bako su di lui, giù di gambe, si avvicina Onwaku con tutta la sua forza fisica! Nundberg che vanno contro uno, i giù di gambe, si avvicina anche a chi è stato un po' di gambe!